www.mesal.info Sono bufaure, e da me che dueci passi e vedi? E da me che il panorama segura ti c'è la fantasia. Da dove c'è due un ben? Sono il cedrone e avete a cuci. Ma quanto? Da dove finisci la scuola, madame di avoste? E anche il campionato del ballone? De messale un ben! Certo! E dai due ai set di messale! Vennerà l'artista di nonzzec internazionale e vieni da tutta Italia a fare la gara per mostrare cosa gli vogliono fare. Ho un'andrezza al simposio! Mostra chi sei! Mostra chi sei! Se tu vieni e vieni tu noi sarò!